Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Dopo aver visto il film Inception, ci siamo chiesti se davvero una trottola potesse girare all'infinito. Il protagonista Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio, aveva un piccolo totem di metallo a forma di trottola che faceva girare all'infinito. Ma davvero una trottola può girare all'infinito? Certo, basterebbe trovarsi nello spazio e fare in modo che la trottola non sia appoggiata a nessun piano. In questo modo non sarebbe soggetta a nessuna forza e girerebbe senza problemi all'infinito. Dato che i protagonisti si trovano sulla Terra, la questione cambia. In questo caso, infatti, la trottola è soggetta a ben due forze, quella di gravità e la reazione vincolare, entrambe applicate al centro di massa della trottola. Per mantenere continua la rotazione dovremmo mantenere costante il momento angolare e, in assenza di forze esterne, fare in modo che non ci sia attrito tra il piano e la trottola. Il baricentro dovrebbe restare in linea con il punto di appoggio della trottola sul piano, per far sì che l'asse della trottola sia in verticale, anche se un minimo movimento farebbe perdere l'equilibrio alla trottola. Dopo le prime rotazioni, la trottola inizia a muoversi intorno ad un asse di rotazione più ampio e non più perpendicolare al piano, iniziando così la precessione della trottola. Non solo per questo una trottola non può girare all'infinito, ma anche a causa dell'area con cui crea un attrito viscoso, ovvero un corpo che si muove in un fluido. Questo rallenta il suo movimento e crea un momento frenante. Dopo aver capito che una trottola non può girare all'infinito, ci siamo chiesti quali fossero le conseguenze se anche sulla Terra la trottola girasse all'infinito. Infatti, se la trottola girasse all'infinito anche qui, un minimo movimento sposterebbe qualsiasi oggetto, a partire da cuscini, peluche, assemafori, edifici e palazzi. Capiamo quindi che se non ci fosse attrito, non riusciremmo nemmeno a camminare o ad affermare un utensile. Perciò, ciò che l'attrito rende difficile, in realtà è possibile solo grazie a quello. Grazie a tutti per l'attenzione, ci rivediamo presto.